C'è un comportamento, un'usanza, direi più un'abitudine, delle persone che sono impegnate con l'acquisto di una casa e che accomuna un po' tutti gli acquirenti di case. L'abitudine di cui ti sto parlando è il fatto di pagare l'agenzia immobiliare, quindi le provvigioni dell'agenzia immobiliare, o al momento della sottoscrizione del preliminare d'acquisto, o compromesso, chiamalo come vuoi, o addirittura il giorno dell'atto, quando l'acquisto è definitivo. Perché accade questo? E soprattutto, se così non fosse, cioè le persone che non adottano questo sistema, ma ne adottano tutt'altro, quali benefici ne potrebbero trarre? Innanzitutto cerchiamo di capire, di individuare il perché gli agenti immobiliari consentono, permettono alle persone, ai loro clienti, ai loro acquirenti, di pagare le loro provvigioni in maniera posticipata. E cerchiamo di capire che significa anche posticipata. Questo accade perché gli agenti immobiliari preferiscono essere pagati nel momento in cui quella vendita lì è certamente conclusa. Quindi quella casa lì è stata certamente venduta. Che significa certamente venduta? Accade spesso che alcuni agenti immobiliari, non tutti, alcuni agenti immobiliari, posticipino in un secondo momento, in una fase successiva, più avanzata della compravendita, una delle fasi più importanti dell'acquisto di una casa, cioè l'analisi della documentazione, l'analisi che quella casa lì sia perfettamente vendibile. Cosa che dovrebbero fare, alcuni fanno, prima ancora di mettere in vetrina una casa. E invece alcuni no. Alcuni decidono di posticipare questa raccolta informazioni, ricostruire la storia della casa, in una fase più avanzata. Quando è stata fatta già una proposta d'acquisto? Quando addirittura è il notaio a cercare a chiedere informazioni documentali su quella casa e loro si limitano ad accontentare, ad assolvere quelle che sono le richieste del notaio, o addirittura nei momenti in cui si è presentato il perito e ci pensa lui. Quindi il perito della banca, della parte acquirente, alla quale banca si è rivolta per chiedere un mutuo, invia un perito che ce lo fa fare di raccogliere informazioni e documentazioni. Sarà lui a fare tutte le analisi di verifica e a stabilire se quella casa è compravendibile o meno. Se non lo è, si corre ai ripari. Se c'è da sistemare, si sistema. E per molti questa fase di raccolta informazioni e documentazioni su quella casa inizia dopo l'aver sottoscritto una proposta d'acquisto. Forse non lo sapevi, ma il diritto alla provvigione scatta in capo all'agente immobiliare nel momento in cui l'affare si considera concluso. E questo momento in cui l'affare si considera concluso è proprio l'accettazione della proposta d'acquisto. Quindi già dalla proposta d'acquisto accettata avrebbero diritto a riscuotere le provvigioni. A patto che però abbiano la certezza in tasca che quell'immobile sia perfettamente compravendibile. A patto però che l'agente immobiliare riesca a garantire a fronte di quel pagamento che nulla, nessun problema, nessun imprevisto si vada a mettere in mezzo tra l'acquirente e la vendita di quella casa. Non parlare poi degli agenti immobiliari che dichiarano alla parte acquirente, potenziale acquirente, prima una proposta d'acquisto e poi ti darò accesso alla documentazione di quella casa. Invece la domanda che ti faccio è, e rispondimi nei commenti se hai voglia, cosa ti cambierebbe se invece tu iniziassi a fare le verifiche, a controllare, a metterti in tasca la certezza che quella casa sia acquistabile senza nessun tipo di problema prima ancora di sottoscrivere una proposta d'acquisto? Quale potrebbe essere la differenza tra te che agisci così, peraltro da compro casa, e chi invece pensa di cogliere l'opportunità di posticipare il pagamento dell'agenzia immobiliare senza sapere che sta posticipando ad un secondo momento, oltre al pagamento, anche le verifiche che danno la certezza che quella casa sia acquistabile senza problemi? E ti starai rispondendo, certo, la prima cosa che mi cambierebbe è il fatto che io devo pagare l'agente immobiliare in sede d'accettazione della mia proposta d'acquisto. Quindi devo quasi anticipare il mio pagamento rispetto agli altri, che invece si permettono il lusso di pagarlo in maniera totalmente posticipata. Altra risposta per così dire scontata potrebbe essere beh, l'unica agevolazione che avrei, che avrei la certezza immediata che quella casa è perfettamente compravendibile, che nessun problema si potrà mettere in mezzo tra me e l'acquisto di quella casa. Altra risposta scontata che ti potrebbe venire in mente è il fatto che beh, così facendo potrei subito mettermi in tasca la certezza che quella casa sia perfettamente acquistabile, che quella casa non ha problemi di sorta in nessuno degli aspetti che la compongono. Quindi zero problemi, zero sorprese, zero brutte notizie, zero ansia. Però io te ne voglio suggerire altre due. Altre due differenze che ci possono essere tra te che agisci in questo modo da compro casa e gli altri che colgono invece l'occasione, l'opportunità di posticipare sia il pagamento che le verifiche. Primo aspetto fondamentale è che tu, rispetto agli altri, alla stragrande maggioranza dei potenziali acquirenti di case, tu sei differente. Uno degli obiettivi principali di un compro casa è differenziarsi dagli altri acquirenti di casa per ricevere un trattamento differente, per meritare un trattamento differente dagli altri da parte degli agenti immobiliari, per evitare di perdere tempo. Quindi tu rispetto agli altri non perdi tempo, lavori prima per guadagnare tempo dopo. Tu, a differenza di altri, non stai lì a sperare che non è poco, che vada tutto per il verso giusto e che nessuno ti comunichi che c'è un problema, qualcosa non va e quindi i tempi si allungano un attimino. Pensa quanto può cambiare lo scenario della tua trattativa, della tua negoziazione nel momento in cui ti manifesti totalmente differente dagli altri, il tuo modo da agire è totalmente differente dalla massa. pensa quanto può cambiare per te la negoziazione al cospetto dell'agente immobiliare che è lì a negoziare la casa con te. E questo te lo do per certo. Ma ce n'è un altro di aspetto fondamentale ed è il secondo del quale ti volevo parlare. Immaginiamo la scena. Tu arrivi in agenzia immobiliare disposto, pronto a sottoscrivere la tua proposta d'acquisto perché vieni già da un trascorso di analisi, di verifiche, di controlli, quindi hai le idee totalmente chiare. Quindi ti reca in agenzia disposto a sottoscrivere con la massima certezza e tranquillità una proposta d'acquisto e quindi allegata la tua proposta d'acquisto cosa ci sarà? Un assegno di caparra per la parte venditrice e un assegno bello, pronto, di provvigioni, 4% più IVA, per l'agente immobiliare. Con la specifica che i due assegni possono essere incassati, bancati, nel momento in cui la parte venditrice accetta quella proposta d'acquisto, quindi sottoscrive per accettazione quella proposta d'acquisto. Ora immagina la scena. L'agente immobiliare si reca a casa o convoca in agenzia la signora Maria, parla con la signora Maria, rappresenta le motivazioni valide, se ne hai avute, killer, di ribasso sul prezzo, di negoziazione, su quella casa, rappresenta le tue killer, le tue motivazioni per la tua offerta, ma nel frattempo c'è un particolare da non sottovalutare. Intasca l'agente immobiliare al tuo assegno di provvigioni. Vale a dire che se lui riesce ad avere quell'accettazione lì, quell'assegno lo considera incassato. Se lui non riesce, nel tentativo di far accettare e far sottoscrivere, controfirmare per accettazione quella proposta d'acquisto, quell'assegno è destinato ad essere restituito a te. Ora la domanda è, ragiona un attimo, quanto si batterà, e non per te, perché penso che ne freghi niente di te, ma quanto si batterà l'agente immobiliare per quell'assegno che è in tasca affinché la signora Maria accetti la proposta d'acquisto? Quanto cercherà di essere convincente affinché quella proposta, la tua proposta d'acquisto, venga accettata? Cambia o no? Ragionaci. Quindi se sei in grado di farlo, se sei nella condizione di riuscire ad analizzare la situazione prima ancora di sottoscrivere la tua proposta d'acquisto, oltre ad avere certezze, oltre ad non perdere tempo, oltre a dover pagare l'agente immobiliare al momento giusto, cioè quando l'affare si considera concluso, prova a metterti in tasca anche dei trattamenti differenti, anche delle procedure differenti, perché è una questione di metodo. Ci vediamo dall'altra parte.